Ciao, buongiorno, oggi voglio fare per pranzo una ricetta speciale italiana voglio fare un capellino al funghi porcini per fare questa ricetta voglio utilizzare una pasta un po' di odore sale i temperi oregano pepe un po' di olio i funghi porcini secchi cipolla e panna i funghi secchi si deve colocare nell'acqua per idratare almeno per 30 minuti in una panella mette l'olio di oliva mette l'oliva l'acqua di funghi l'acqua di funghi non si deve buttarla fora l'acqua di funghi l'acqua di funghi l'acqua di funghi ciao 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 ciao